ciao ragazzi oggi mi trovo in paradiso e questo paradiso si chiama pulocinta che è quello che vedete alle mie spalle si tratta di un'isoletta piccolissima pulocinta significa isola dell'amore ed è un posto stratosferico vedete che ci sono tutte le gradazioni dell'azzurro praticamente una quindicina di ville sull'acqua bellissime anche da dentro sono molto rustiche però veramente carine l'unico problema è stato che per arrivare qui ci vogliono parecchie ore ci vuole parecchia strada da bali bali non bari quindi l'indonesia bisogna arrivare nel nord dell'indonesia e per farlo occorrono due voli due ore di macchina e poi alla fine circa 20 minuti di barca per arrivare in questo paradiso terrestre però diciamo che ne valza veramente la pena perché essere qui è un vero sogno adesso vi faccio vedere un po come è fatta l'isola no no Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti